Sono 885 in campagna ai casi di covid. Nelle ultime 24 ore su 29.048 tamponi processati resta sostanzialmente stabile l'indice di contagio che si attesta al 3,4%. Un solo decesso segnalato dall'unità di crisi, ma il governatore De Luca avvisa serve prudenza e senso di responsabilità. Bisogna accelerare sui vaccini, altrimenti si rischia di chiudere tutto. Noi abbiamo voglia di aprire l'economia, le attività, i cantieri e abbiamo anche voglia di uscire dal calvario covid. E non abbiamo voglia di perdere tempo con i Novax e con tutti gli sfrantumati d'Italia. E i contagi tra i giovanissimi sono in aumento. Abbiamo solo nell'ASL Napoli 2, per quanto riguarda le scuole, 30 focolai. 30 focolai solo nelle scuole dell'ASL Napoli 2 Nord, per un numero complessivo di ragazzi positivi pari alle 120 unità. Abbiamo 67 classi in isolamento e il numero di alunni in isolamento di quasi 1000 alunni. E poi ci sono gli anziani, il 34% degli ultraottantenni in campagna non ha ancora fatto la terza dose. E faccio appello perché i cittadini campani indossino sempre la mascherina.